Eichmann non è solo moto ma anche abbigliamento. Insieme a un mio caro amico che è Lele di CMJ, California Motor Jacket, appassionato di moto, ha fatto questa linea da dei zubotti di pelle utilizzati per motor race e abbiamo abbinato la mia linea di solo per numeri 1, che è una linea un po' più streetwear, un po' più datute, felpe. Poi spazio a tutto il settore della cura del veicolo. Chiunque acquisti una moto o un'auto vuole prendersene cura nella linea migliore. Quali sono i prodotti più venduti, più richiesti? Si va sicuramente dallo shampoo per auto alle cere super veloci. Abbiamo visto che però c'è una grandissima richiesta di prodotti di uso più comune, come il glass cleaner per la pulizia del parabrezza e dei vetri del mezzo.